Dobbiamo purtroppo già fermare la nostra disamina sull'archiviazione di Piazza Fontana del 2012 per fare una parentesi, sarà un po' lunga ma deve essere fatta per forza, sia sulla psicologia del ricevente cioè io posso fare anche, posso essere bravo a dimostrare tutto ciò che più mi aggrada bisogna vedere chi ho dall'altra parte a leggere questi documenti o a sentire questi video che sto cercando di rendere il più digeribili possibili perché so, ho già constatato negli anni che leggere un documento come l'archiviazione di Piazza Fontana che ho linkato presso tutti i forum tutti gli ambiti di discussione non serve assolutamente a niente il mostrologo non include nessuna informazione che non gli arrivi dalla televisione fondamentalmente o da suoi sistemi accreditati che considera prestigiosi in cui possono esserci anche blogger, scrittori che campano da 50 anni sui morti coperti dallo Stato diciamo le cose come stanno e per cui io posso anche dimostrarla una cosa se dall'altra parte non si capisce neanche di cosa si sta parlando ci si renderà conto un problema per cui adesso mi devo un attimo fermare torneremo all'analisi dell'archiviazione di Bologna per capire invece sia cosa è la strategia dell'attenzione perché come si diceva in quell'introduzione non poteva andare avanti dopo Bologna nelle stesse modalità cercheremo di capire come funziona la giustizia in questo paese se abbiamo dei giudici che in tutti gli altri casi hanno lavorato a lacrimente e a screzio, a discapito della propria incolumità per la ricerca spasmodica della verità o se abbiamo degli insabbiatori professionisti fondamentalmente e vediamo anche però per primo come ragiona il nostro utente di riferimento diciamo il nostro spettatore di riferimento tu gli fai un video senza figurine era un errore mio perché mi rendo conto che io speravo che almeno quando si parla di cose così complesse di raccogliere persone che possano reggere la lettura di un documento senza le figurine purtroppo no abbiamo dei tassi sull'analfabetismo funzionale drammatici e estremamente eloquenti vuoi la curva di Flynn insomma bisogna lavorare per figurine per cui ben vengano le figurine questa è l'archiviazione di cui si andrà parlando ovviamente a quest'utente gliel'ho tentato di spiegare per 22 volte 22 volte con tanto di link per farli capire non stiamo parlando di Amicone non stiamo parlando di Pacciani stiamo parlando del 2012 e di un giudice in cui nonostante la persona che può aver confessato ha un test di essere stato l'organizzatore di tutte quelle bombe che per brevità chiameremo strage di Piazza Fontana che in realtà furono diverse bombe sia a Milano che a Roma in cui quella di Piazza Fontana fece il maggior numero di morti dal tempo della seconda guerra mondiale da che eravamo in pace quasi un'altra dichiarazione di guerra o atto di guerra soprattutto se come vedremo fatto da una forza straniera stiamo parlando di questa archiviazione lì si spiega per 22 volte all'utente in cui appunto Joseph Bevilacqua viene riconosciuto dagli affari esteri riservati come l'unica spia perché di spie si parlava di agenti di servizi segreti di 007 chiamiamoli come vogliamo che può corrispondere al giù del racconto di questo soggetto Virgilito Alfredo il mostrologo la sa così alcuni anni fa esce una notizia in cui lo stesso Bevilacqua si sarebbe messo a piagnucolare con un amico che il mostro era lui ed era anche Zodiac poi viene fuori che sempre secondo lui era il collocatore materiale della bomba vicino a Piazza Fontana poi ritratta tutto questo è il modo in cui sono riuscito a far capire fino adesso questa archiviazione di Piazza Fontana questo è uno che mi segue su Facebook cosa dice alcuni anni fa nel 2018 esce una notizia in cui lo stesso Bevilacqua si sarebbe messo a piagnucolare no non era una notizia era un'inchiesta quella di Amicone non si mette a piagnucolare è Amicone che lo mette di fronte al fatto che secondo Amicone è il soggetto con cui parlava Bevilacqua era sia il mostro che è Zodiac questi tace dopo al telefono nei giorni successivi ammette e ammette anche di avere la pistola poi viene fuori che è quello di cui stiamo parlando quello che sto cercando di spiegare ma è una cosa un progetto difficilissimo ai mostrologi da anni poi viene fuori che sempre secondo lui lui chi Amicone no Amicone non ha mai parlato di tutta questa vicenda di Piazza Fontana quindi sempre secondo lui chi Bevilacqua non lo sappiamo non lo sappiamo andava 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 indagato era il collocatore materiale no era l'organizzatore un agente della CIA non è che ci va lui di persona in banca lo farà mettere magari a qualche cucchiarelli a qualcuno di questi balordi come per il mostro eh intendiamoci della bomba vicino a Piazza Fontana a Piazza Fontana la banca dell'agricoltura è a Piazza Fontana poi ritratta tutto no nessuno ritratta niente è Spataro che prende e archivia d'accordo capite come quanto sarebbero indispensabili questi video se ci fosse la possibilità per chi ha studiato queste vicende di includere una nuova informazione qualcosa che forse ti fa capire di aver che tutta la confusione che citi sulla vicenda è stata voluta è stata creata per non farti capire come sono andate le cose perché questa è un'informazione nuova e non te la puoi ricordare in questa maniera dopo che te l'ho detta 400 volte tra l'altro questa storia del eh ma amicone è inattendibile ma da quando in qua se Piero dice Antonio ha ucciso e a me verificare che Antonio ha ucciso vado a fare una lunga ricerca sull'attendibilità di Piero in base a che cosa i mostrologi dicono amicone è inattendibile anche se è inattendibile anche una persona inattendibile può ricevere una confessione vera così come lo stesso Virgilito viene dal PM dichiarato inattendibile questa è l'archiviazione che andremo a studiarci nel dettaglio le dichiarazioni di Virgilito si sono rivelate prive di fondamento oltre che palesemente inattendibili palesemente inattendibili e tra l'altro proveniente da persona mentalmente disturbata queste sono opinioni un giudice non si basa su il fondamento di una dichiarazione a parte che nel corso di questo video qui vedremo quanto avevano fondamento in generale il fatto che uno della CIA ci mettesse le bombe d'accordo non era assolutamente un'informazione priva di fondamento è un'informazione che dal 1990 è in Parlamento provenienti da persona mentalmente disturbata ma un pazzo non può vedremo se era pazzo e anche se fosse pazzo estremezziamo il concetto ma un pazzo non può ricevere una confessione da un agente della CIA che gli dice una cosa vera abbiamo avuto il culo che gli affari esteri riservati ci ha dato una persona sola eventualmente da indagare non facciamo prima a vedere a chiedere a questo per quanto disturbato uè Virgilito ma è questo Joseph bevi l'acqua qui piuttosto che andare a prendere come poi si vedrà le cartelline psichiatriche di 18 anni prima del soggetto che ha raccolto la confessione che poi mica solo Virgilito è psichiatrico anche Gianni Casalini che insieme a Toniolo sono stati riconosciuti dal PM come colpevoli perché devo spiegare prima questa cosa la strage di Piazza Fontana viene chiamata la madre di tutte le stragi perché lì cominciano i tanti morti nell'estate precedente ci fu un attacco multiplo che ricorda molto appunto quello di Piazza Fontana in cui da tre posizioni d'Italia differenti da tre stazioni differenti su dieci treni vennero messe dieci bombe sappiamo che di questo attacco i responsabili erano Toniolo e Casalini ma Casalini è psichiatrico anche lui e quanta gente poi nel corso di questa vicenda e altre saranno psichiatriche o inattendibili non sarà che questa cosa dell'inattendibilità del test è uno dei tanti modi per depistare insabbiare in definitiva coprire i responsabili che è il sistema di questo paese non sto parlando di Spataro infatti stiamo parlando di altre vicende che adesso vedremo perché se non capiamo in che mondo ci muoviamo è ovvio che poi ci si comporterà come questo trapano trapano si fa chiamare lui così su youtube che infatti vediamo come risponde anche perché immaginiamoci la scena io sono il tenente colonnello Giraudo o il giudice Spataro diciamo un uomo dello stato che dovrebbe dovrebbe voler scoprire la verità c'ho un certo virgilito che mi dice e guarda un Joe che lavora per la CIA mi ha detto di aver messo le bombe del 12 dicembre 1969 tra cui quella che esplosa tra l'altro inavvertitamente dice ha ucciso tutte quelle persone a piazza Fontana e lo dice tra le lacrime io chiedo ai servizi segreti in questo caso Giraudo scusa un po' servizi segreti tra tra tutto il vostro elenco di spie qual è c'è un Joe che potrebbe essere nato più o meno in quest'anno più o meno chi vi risulterebbe tra i vari Joe che avete che potrebbe essere il Joe di questo soggetto l'ufficio affari esteri riservato non ha alcun dubbio si tratta per forza di Joseph Bevilacqua bene allora io questo Virgilito sarà inattendibile o persona disturbata come Casalini come tutti quelli che purtroppo in questa inchiesta devo sentire ma quanto mi quanto tempo mi portava via prendere il Joe e altri soggetti più o meno della stessa età magari italo-americani e farli fare un bel confronto all'americana non credo che sarebbe stato molto difficile sarebbe forse anche bastato fargli vedere delle foto in una ci metti quella del Joe in questione il Bevilacqua riconosciuto dagli affari ufficio affari riservati come l'unica persona possibile nelle altre foto ci metti gente che sai che per certo non potevano essere veramente lì quel giorno se a quel punto il tuo soggetto per quanto psichiatrico per quanto edipico addirittura e d'altronde quando uno ancora si vuole zanzan la mamma può succedere anche se un po' edipico e Freud ci insegna che tutti quanti siamo edipici se ti aveva riconosciuto la seconda volta quindi una prima volta i nostri affari riservati una seconda volta anche visivamente si guarda proprio questo qui ancora quel Bevilacqua a quel punto andava chi è una domanda indagato questo benedetto Joe Bevilacqua oppure no a parte che secondo me non è che andava indagata meglio e diversamente tutta questa vicenda soltanto perché che quel Bevilacqua è anche il testimone principale del nostro processo al nostro serial killer più importante in Italia e che poi confesserà invece di essere lui sia lui che l'altro serial killer che tra l'altro ammazzava quasi nello stesso modo Zodiac in America anche se l'ufficio affari esteri riservati non l'avesse identificato se uno ti dice guarda un agente della scia mi ha detto che è stato lui a mettere la bomba di piazza Fontana bisognava scoprire chi era mettiamo che no non volevamo scoprire chi fosse a meno che non ci fosse stata un'identificazione c'è stata un'identificazione dell'ufficio affari esteri riservati a quel punto mostrandogli 12 foto tra cui quella di Joe e se a quel punto ce lo avesse identificato ancora una volta andava indagato ci sarà sempre chi ci dice di no e è questo che dobbiamo capire che per la maggior parte delle persone bisogna creare dei meccanismi per tutelarsi da queste cose qui cercheremo di capire fondamentalmente come fa la gente a non capire quel che ha di fronte anche se ce l'ha a un centimetro dirà sempre che con il Prozac non si scherza e per cui se uno nel 94 ha chiesto del Prozac questa è l'archiviazione originale non può ricevere una confessione e riportarla fedelmente nel 2010 e se tendenzialmente tenderà a ricordarsi la cosa come gli pare a lui salvo poi dopo come vi dicevo 22 volte linkandogli la commissione d'inchiesta e spiegandogli che non si sta parlando di amicone non si sta parlando di pacciani alla fine riesci a fargliela andare a prendere e che cosa farà il nostro sagace non investigatore che si informa solo sui media avete presente quando qualcuno parla dell'11 settembre e comincia a dire ah bah si quei complottisti quelli che dicono che quel giorno non c'erano ebrei e tu gli dici guarda veramente la questione sull'11 settembre non è se ci fossero meno ebrei che ci saranno stati sicuramente ma l'hai visto il crollo magari gli chiedi del terzo edificio uno dei tantissimi edifici che crollano a new york quel giorno ti dice no no di questo non so niente prendi il telefonino gli fai vedere quei sei secondi di crollo verticale di un aereo di un grattacielo che non era stato colpito da nessun aereo e lui che fa corre a vedere cosa gli dice paolo attivissimo anche se durante la commissione di inchiesta semplicemente di quell'edificio non se ne parlò in cui paolo attivissimo dice no no è tutto a posto e per cui torna a dirti ah no ma l'hanno già sbuffalata quella cosa lì è tutto tranquillo è tutto tranquillo ecco anche in questo caso il soggetto risponde a un video di dieci minuti in cui si dice semplicemente nei prossimi video si parlerà dell'archiviazione di piazza fontana non capisce che si sta parlando dell'archiviazione di piazza fontana per 22 volte gli spieghi che si parlerà e si sta parlando dell'archiviazione di piazza fontana e a quel punto mettendogli il link proprio dell'archiviazione stessa e a quel punto il nostro sagace non detective ti citerà quello che le indagini svolte per identificare Joe Joseph l'americano della CIA fonte di Virgilio Alfredo e convolto a dir di quest'ultimo nella strage di piazza fontana hanno dato esito negativo tutto quello che stiamo vedendo l'ufficio affari esteri riservati identificato come l'unica persona che può rappresentare quel racconto l'infondatezza del filone Virgilito anche tale seguimento della richiesta di archiviazione merita integrale questo è il giudice che parla ed è il nostro argomento di discussione lui invece prende l'incipit per rassicurarsi va bene come quelli che sull'11 settembre vanno a vedere cosa dice Paolo Attivissimo tra l'altro ci permette l'intelligenza di questo amico di rispondere anche a un'altra questione se dopo Bologna non si poteva continuare con la strategia della tensione a livello nazionale delle bombe che scuotessero le coscienze di tutta Italia passare al mostro dicono i tanti oppositori a questa analisi a questa interpretazione era una cosa ridicola perché la bomba di Bologna colpisce la testa di tutti gli italiani il mostro soltanto dei fiorentini ma intanto se non puoi più andare avanti e lo vedremo in questa strategia di bombe devi trovare un'altra soluzione e così come da noi in Toscana c'era il mostro in altre e non solo in Toscana perché grazie a una voce recentemente tornata in auge su un medico perugino in realtà la mostrofobia il terrorismo creato dal mostro si raggiungeva anche tutta Perugia ma soprattutto a Roma venivano uccise ragazzine di cui ancora o rapite di cui ancora si parla e di cui non è ovvio che sia intervenuto lo Stato per depistare insabbiare e coprire andiamo avanti Ludwig nel Veronese guarda caso vogliamo davvero pensare che siano stati questi due però d'altronde mi rendo anche conto che se uno crede che questi due hanno messo la bomba di Bologna e può anche pensare che questi due avessero iniziato un percorso terroristico proprio negli stessi anni più o meno insomma in cui colpisce il mostro in cui viene rapita vengono rapite uccise ragazze a Roma e ogni ogni mostrologo vede il suo caso no la cosa geniale di cambiare strategia di passare da bombe che scuotessero le prime pagine dei giornali nazionali il giorno dopo a omicidi o comunque atti che conquistassero la prima pagina del giornale locale del giorno dopo è sotto gli occhi di tutti non c'era soltanto il mostro per non parlare poi di altre bande in cui sappiamo con la massima pacificità che erano poliziotti a terrorizzare la popolazione per due lire peraltro perché questi mitragliavano per un pieno di benzina se uno tutte queste cose non le sa l'altro giorno un un mostrologo rispondeva a qualcuno dicendo beh sì è un po' come credere che Mambro e Fioravanti abbiano organizzato la strage di Bologna chi mi ha chiesto questo ma come chi ma come chi non li conosceva mi ha detto per iscritto non durante una conversazione non ve lo posso far vedere perché poi ovviamente mi ha bannato dal suo gruppetto i mostrologi sono appassionati che studiano il caso con il microscopio convincendosi già di che la cosa che devono vedere è molto piccola si credono non so dei virologi che devono studiare un virus per cui credono di essere lì con dei vetrini a guardare qualcosa di microscopico e di acquisire una conoscenza in ambito batterico virologo e quant'altro d'accordo senza neanche ancora sapere di cosa si stia parlando anticipano cioè la definizione del fenomeno all'analisi e allo studio del fenomeno stesso capite? perché così poca gente riesce a capire qualcosa su questa vicenda perché si dicono prima di capire quale sia la domanda la possibile risposta le persone non hanno una capacità di risoluzione comprendere causa ed effetto subiscono fortemente la pressione del pensiero di gruppo subiscono il conformismo sociale lo vedremo molto più avanti in uno degli ultimi video e inoltre sono terrorizzati dalle conseguenze di ammettersi ciò che hanno di fronte per cui anche quando glielo mostreremo diranno come bambini che non vogliono scoprire che Babbo Natale non esiste che si tapperanno le orecchie facendo no 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 va bene anche per i lutti si fa così è una cosa assolutamente comprensibile dell'età infantile avere il terrore delle conseguenze questo è particolarmente evidente su altri casi di cui abbiamo mediaticamente a livello di immagini un contrasto tra ciò che vediamo e ciò che ci viene raccontato questi sono quattro frame presi dal dall'11 settembre stavo per dire dal crollo delle torri ma già nel momento in cui uno parla di crollo si dovrà distinguere tra la versione ufficiale che dice che praticamente dalla dalla punta delle torri da dopo che si è impattato l'aereo quella parte lì si è staccata producendo una pressione contro le torri stesse tale che le hanno disgregate completamente le hanno rese polvere talmente sottile da farle evaporare questa teoria ovviamente non è credibile per cui i complottisti quelli della controinformazione chiamiamoli come vogliamo hanno studiato e messo a punto la teoria della termite militare un crollo dovuto invece e la conseguente polverizzazione dall'esplosione della termite militare la dottoressa giudì ci spiega che non è così neanche questo non è un crollo semplicemente le torri si trasformano in polvere non possiamo cos'è successo quindi non lo so non lo sappiamo uno può ipotizzarlo ma non è che siccome io vedo che le torri da cemento e acciaio si sono trasformate in polvere e non so perché non so quale fenomeno può averlo causato allora questo fenomeno non esiste ragionavano così pare chi lo sa i nativi americani sembra che quando sono arrivate le claravelle fino a che il capo colui che aveva da parte della tribù prestigio per poter parlare e capire le cose fino a che le claravelle non sono arrivate e quasi arriva lui non le abbia neanche viste e soltanto dopo che le ha viste lui ha detto to cosa c'è lì in mezzo al mare qualcosa che non c'è mai stato allora lo hanno potuto vedere gli altri questa cosa nonostante cambi la nostra cultura aumenti la nostra cultura non cambierà mai abbiamo bisogno che qualcuno che riconosciamo come autorevole lo dicevamo anche prima la televisione fondamentalmente ci dica guarda questa non è un'esplosione questa è cemento e vetro che si trasforma in polvere finissima non importa chi lo dica importano le prove di chi lo dice ora è ovvio che a noi se ci dicono che è stato un serial killer ammazzava nelle piazzole torniamo al mostro evidentemente noi vedremo un serial killer nonostante poi cittadino amico depistaggi incongruenze PM che corrono lo vedremo agenti della SAM durante gli interrogatori non importa non importa niente perché ci è stato detto di vedere un serial killer ora prendiamo un fenomeno qualunque che non comprendiamo cos'è questa roba qui non lo sappiamo non lo comprendiamo non sappiamo cos'è allora ci dirà il mostrologo manca per forza guarda guarda come è scranata questa immagine manca definizione manca definizione bisogna prendere una lente un microscopio forse forse in generale si tenterà di dare una risposta se io vi dicessi la risposta è come dice cito la dottoressa Judy Wood la risposta è 27 a cosa? a questa texture? mi direste tu sei scemo questa cosa la facciamo regolarmente per qualunque fenomeno muoiono delle persone sono stati neofascisti è stato un serial killer maniaco scendeva il seno sinistro ci avrà avuto un ricordo sul seno sinistro e si parte con la definizione prima bisogna capire il problema prima bisogna vedere che cosa è successo successo perché se tu guardi al microscopio un grande animale probabilmente non ti accorgerai mai nonostante la puzza neanche se fa una bella scureggione che sei davanti a un elefante forse dovevi allontanarti non avvicinarti se non riconosci questo occhio perché è il primo occhio che tu vedi perché non hai mai visto un occhio di rinoceronte di cane di gatto di essere umano di mammifero di rettile di uccello di pesce niente e questo è il tuo primo occhio che vedi non saprai riconoscerlo come occhio cerco di prenderla alla larga perché se non facciamo così è abbastanza inutile ci scontreremo come fan le mostrologi per 50 anni e oltre a cercare di capire delle cose che era molto semplice comprendere bisognava cambiare prospettiva togliere il microscopio non anticipare la risposta della nostra analisi è un serial killer è questo è quell'altro e cercare di capire il più obiettivamente che cosa abbiamo di fronte perché è proprio come l'elefante ci tengo molto a questa cosa spero veramente che qualcuno mi basterebbe qualcuno riesca a cambiare tu hai questo e invece è questo entrambi dicono la verità ma questo non ti dice niente sul fenomeno che è davanti questo forse si perde qualche dettaglio scritto in qualche faldone ma almeno capisce che cosa hai davanti perché è importante parlare della strage di Bologna e un attimo anche dell'Italicus di altre Bologna in particolare perché è stata veramente grave e come vi dicevo ha segnato la fine della strategia della tensione per tutta una serie di cose storiche che sono assolutamente conosciute da tutti solo che nessuno le mette insieme con le altre storie che avvengono il mostro colpisce guarda vi voglio regalare anche il 68 nel 68 nel 74 passano sei anni dal 74 all'81 ne passano addirittura sette nell'81 colpisce due volte poi una volta l'anno fino all'85 quindi 68 74 81 81 82 83 84 85 non lo vedete che c'è una serie 81 85 con una certa cadenza 68 ammesso che fosse lui 74 potevano anche essere omicidi differenti tra l'altro non si parla di mostro di Firenze i giornali non ne parlano probabilmente erano delitti legati anche ad altro bologna si tratta leggo qualcosa da wikipedia perché poi qualcosa invece andremo a leggerlo dagli atti parlamentari e da cose ovviamente un pochino più importanti ma perché è importante anche wikipedia perché ci dà un po' segno del del dominio pubblico in qualche modo se è una cosa è su wikipedia lo vediamo anche sul mostro forse se ne può cominciare a parlare anche noi senza fare gli ignorri si tratta del più grave atto terroristico avvenuto nel paese nella seconda dopoguerra da molto indicato come uno degli ultimi atti della strategia della tensione ora vabbè vi devo ricordare siamo il 2 agosto 1980 ore 10 e 25 alla stazione ferroviaria di bologna centrale italia è considerato uno dei più gravi attentati verificati negli anni di piombo assieme alla strage di piazza fontana alla strage di piazza della loggia del 28 maggio 74 e alla strage del treno italicus del 4 agosto del 74 tutti questi episodi si va di bene fin da ora verranno silenziati insabbiati depistati da organi di stato o da e o da funzionari appartenenti sia allo stato che a loggie segrete loggie massoniche vi leggo un pezzettino proprio di wikipedia nel 2020 l'inchiesta della procura generale di bologna ha concluso che paolo bellini ex avanguardia nazionale è esecutore insieme agli ex nar già condannati in precedenza avrebbe agito in concorso con liscio gelli umberto ortolani federico d'amato mario tedeschi individuali quali mandanti finanziatori o organizzatori essendo questi ultimi ormai tutti deceduti le sentenze arrivano a volte un pochino troppo tardi non potranno essere intraprese ulteriori azioni giudiziari le indagini si indirizzarono quasi subito sulla pista neofascista ma solo dopo lungo iter giudiziario e numerosi depistaggi sempre wikipedia per cui furono condannati Gelli Musumeci Belmonte pazienza la sentenza finale del 95 condannò Valerio Fioravanti e Francesca Mambro i due ragazzini già visti come appartenenti alla banda armata che ha organizzato e realizzato l'attentato di Bologna e per aver fatto parte del gruppo che sicuramente quell'atto aveva organizzato nel 2007 e poi si aggiunse che anche la condanna di Luigi Ciavardini minorenne all'epoca dei fatti nel 2020 quella di Gilberto Cavallini e nel 2022 quella di Paolo Bellini l'aspetto particolarmente inquietante è che lo Stato anche per Bologna anche per Bologna abbia con ogni probabilità coperto mandanti ed esecutori e fin dai primi minuti così come ha depistato il processo su Piazza Fontana d'accordo e abbiamo le prove abbiamo le sentenze non una ma due contro il SID i nostri servizi segreti militari del tempo che mi consentono di dirlo per cui a tutti questi che vanno a prendere l'incipit di Spataro ma Virgilito è inattendibile sì e lo Stato è stato condannato per depistaggio per cui io da studioso della vicenda voglio capire se questa archiviazione è un altro depistaggio un altro insabbiamento l'ennesimo o se per la prima volta un giudice ha cercato di scoprire la verità perché sarebbe stata la prima volta vediamo gli altri casi allora per Piazza Fontana abbiamo due sentenze che ci confermano che lo Stato è stato condannato per falso ideologico nelle persone di Labruna e Maletti e il ruolo giocato da uomini del SID nel depistaggio dell'inchiesta dunque è suggellato da due condanne definitiva non una la sentenza di Bari è infatti confermata dal giudizio in Cassazione del 27 gennaio 1987 per cui quando Spataro nel 2011 si trova a indagare su questi quattro filoni in particolare questo che ci interessa di questo Joe agente della CIA secondo voi ha delle sentenze ha delle prove giudiziarie talmente forti inequivocabili che può archiviare senza indagare o ha anche un dovere morale visto che lo stesso Stato ha depistato falso ideologico con Maletti e Labruna ed è in sentenza in due sentenze vediamo gli altri casi e questa e questa è la fontana sull'italicus ha opposto e in generale questo è proprio l'atteggiamento del nostro Stato ha opposto il segreto di Stato un po' qua un po' là anche se abbiamo visto in uno degli altri video che il segreto di Stato su atti eversivi non lo si può ammettere per legge se ne fregano perché ci sono cose che vanno sopra la legge inoltre lo Stato lo vedremo è riuscito ad avvocare a sé tutte le inchieste che rischiavano di scappargli di mano facendo in modo che nessun responsabile sia marcito in galera come ci sarebbe aspettato a proposito del segreto di Stato vedremo nel dettaglio queste sono le dichiarazioni di Paolo Emilio Taviani al Corriere della Sera desecretate mail o declassificate come si vuole nel 2021 che le disse in una commissione d'inchiesta degli anni 90 che agenti della CIA si siano immischiati nella preparazione degli eventi di Piazza Fontana e successivi è possibile disse Paolo Emilio Taviani non Virgilito anzi sembra ormai certo erano di principio anti-aperturisti e anti-centro-sinistra che agenti della CIA fossero fornitori di materiali e tra i depistatori sembra pure certo questo è per capire in che mondo ci muoviamo di questa vecchia caldaia che era esplosa si permise a gli esecutori materiali di darsi alle gambe di darsi di darsi alla fuga fondamentalmente perché come si faceva a pensare che una caldaia distruggesse la stazione centrale di Bologna era semplicemente il modo per far scappare chi di dovere questa ve la leggo l'unità nell'edizione del giorno dopo la strage basandosi su una presunta rivendicazione sostiene l'idea della matrice neofascista dell'attentato da lì come si disse del maniaco fiorentino così come del maniaco fiorentino si è parlato di maniaco e da lì in poi non ci si capisce più niente di Bologna si disse sono stati fascisti e da lì non ci si capisce più niente infatti ci furono da subito alcune rivendicazioni prima da parte dei NAR peccato però che la telefonata è risultata partita da una sede fiorentina del Sismi il servizio segreto militare da una sede fiorentina del Sismi è partita la telefonata dei NAR questo vuol dire due cose o i NAR erano all'interno del Sismi o il Sismi mentiva dicendo di essere il NAR e perché il Sismi dovrebbe mentire dicendo di essere il NAR poi arrivarono delle telefonate dalle Brigate Rosse e il tutto veniva seguito da altrettante telefonate di altrettanti militanti dei due gruppi e tutto ciò riuscì a creare il depistaggio lo Stato creò il depistaggio leggendo riguardo i depistaggi in particolare si apprende che ai magistrati giunsero notizie e segnalazioni in base a cui sospetti dovevano essere indirizzati oltre confine l'ipotesi scaturita da quelle indicazioni era quella di un complotto internazionale che coinvolgeva terroristi stranieri neofascisti italiani latitanti all'estero con collegamenti in Italia ora poi se verrà fuori anche qualcosa su Bologna voglio vedere vabbè lasciamo stare tutto questo risulterà essere un mostaggio costruito a tavolino utilizzando vecchie informazioni e notizie completamente inventate le operazioni di depistaggio furono progettate ed eseguite da un settore deviato del sismi all'epoca diretto dal generale Santo Vito iscritto alla P2 e morto nell'84 d'accordo allora abbiamo detto che dopo Bologna non si poteva continuare con le sole bombe ma perché intanto che qualunque cosa fosse accaduta in cui minimamente poteva sembrarci che c'entrasse lo Stato per l'opinione pubblica ci sarebbe entrato lo Stato perché tutto pulsava di massoneria servizi segreti deviati quanto volete perché nel frattempo erano successe due cose la prima e che vale la pena di essere ricordata è l'episodio del 13 gennaio dell'81 Bologna 80 13 il mostro ancora non ha cominciato la sua serie ci sono le bombe Bologna 2 agosto andiamo al 13 gennaio con il calendarino mentale 1981 in uno scompartimento di seconda classe del treno espresso Taranto Milano e un non pensiero va al cantatore Rino Gaetano e al suo fratello figlio unico canzone di cinque anni prima su questo treno fu scoperta una valigia che contoneva otto lattine piene di esplosivo lo stesso esplosivo che fece esplodere la stazione di Bologna un mitra Mab immancabile un fucile automatico da caccia due biglietti aerei Milano Monaco Milano Parigi e il ritrovamento era stato possibile in seguito a una segnalazione dei servizi segreti l'operazione chiamata terrore sui treni si dimostrò un falso del gruppo deviato del sismisto deviato che voleva accreditare la tesi della pista estera facendo riferimento a una fonte che doveva restare segreta la corte d'assise di Roma la corte d'assise no Gaetano no Delio no Virgilito no Gaetano la corte d'assise di Roma accertò che la fonte non esisteva e le informazioni erano false costruite nell'ufficio di Musmeci e Belmonte quelli condannati con la condivenza di Santo Vito nella motivazione i giudici scrissero che la ricostruzione dei fatti basata su prove documentali testimoniali e sulle dichiarazioni degli stessi imputati fa emergere una macchinazione sconvolgente che ha obiettivamente depistato le indagini sulla strage di Bologna una macchinazione sconvolgente che ha obiettivamente depistato le indagini sulla strage di Bologna scusate e sgomenta scrive la Corte dell'Assise sgomenta che forze dell'apparato statale sia pure deviate chiamiamole deviate abbiano potuto così agire non solo in violazione della legge santo cielo ma con disprezzo della memoria di tante vittime innocenti e del dolore delle loro famiglie con il tradimento delle aspettative di tutti i cittadini a che giustizia si facesse d'accordo questa è la Cassazione d'accordo ora mi calmo un attimo e torniamo almeno per chi l'ha letta adesso poi la vedremo bene nel dettaglio insieme all'archiviazione analizzata su piazza fontana spataro archivia questo virgilito perché tanto prima del 74 questo bevi l'acqua non ci interessa sapere non ci interessa intanto sapere se è vero che un agente della cia ha messo le bombe questo non ci interessa ci potrebbe interessare capire se proprio questo bevi l'acqua che riconosce l'ufficio affari esteri riservati però c'è da dire che virgilito è psichiatrico bevi l'acqua inoltre prima del 74 non era in italia e abbiamo visto che invece al processo di pacciani del 94 quindi tantissimi anni prima lo aveva detto in televisione che era qui dal 64 64 specifica e anche chi ha messo le gli attacchi ai treni dell'estate prima di piazza fontana non ci interessa sentirli perché sono tutti psichiatrici poi sono lontani in realtà sarebbe stato invece molto interessante scoprire chi c'era dietro tutti questi attentati perché è un po' la prima cosa che ci viene da pensare lo stesso virgilito quando riceve la confessione di questo agente della cia di nome di cui sa soltanto il nome meggio va dal console a san francisco perché la cosa avviene a san francisco la prima cosa che gli chiede il console è ma scusa ma ha messo anche le altre bombe è la prima cosa che uno pensa perché si capisce che tra il 69 e l'80 c'è un'unica mano che poi dopo il ritrovamento di quel depistaggio ad opera dei nostri servizi ma soprattutto delle liste del marzo 81 a Villa Vanda di Gelli bisognava cambiare modo e infatti lì inizia il mostro inizia Ludwig al nord a Roma un sacco di ragazzine spariscono vengono uccise eccetera perché è importante questa nostra inchiesta si tenga a mente che per il cinquantesimo per il cinquantesimo da piazza da piazza Fontana il giudice Salvini quello che manda Virgilito a parlare con Giraudo che è un tenente colonnello dei carabinieri sulle dichiarazioni che ha scrive un importante libro di oltre 600 pagine che lo vedete si chiama la maledizione di piazza Fontana l'indagine interrotta i testimoni dimenticati la guerra tra magistrate è un bel librone in cui andiamo all'indice in cui figurano i personaggi non si parla proprio né di bevilacqua come vedete e neanche del Virgilito semplicemente si esclude la vicenda ma lo stesso Salvini dice che andare a risentire quel Casalini e quel Toniolo i precursori quindi della strategia della tensione accidenti se era importante magari ci permetteva di scoprire il tutto anche delle cose dopo d'accordo fino ad arrivare appunto a Italicus Brescia Bologna torniamo a Bologna cerchiamo di capire i possibili moventi sentiamo per esempio cosa dice tutta gente che ha parlato in tempi non sospetti Pellegrino che era il senatore dei DS ex presidente della commissione stragi nome breve per intendere la commissione sugli anni delle stragi e la mancata attribuzione dei responsabili perché è questa la cosa che dà fastidio che ci possano essere delle stragi ci sta ma che lo Stato poi si metta nel mezzo per impedirci di trovare responsabili è qualcosa che sconvolge come diceva bene la ora se no poi mi rincazzo come diceva bene la corte d'assisi d'assisi di Roma è sconvolgente è sconvolgente allora vediamo a Pellegrino il movente secondo Pellegrino non sarebbe la strategia della tensione la spinta verso una svolta a destra ma altri contrasti di potere che siano stati internazionali tra Nato e Patto di Varsavia tra Israele e OLP tra Stati Uniti e Libia con l'Italia in posizione undivaga che si trovò in mezzo a queste guerre segrete oppure come minaccia per silenziare chi sapeva qualcosa sulle bombe tra il 69 e il 74 da Fontana all'Italicus e vedremo dopo in un altro episodio come lo stesso tenente colonnello Giraudo abbia avuto timore per la sua vita perché tutti lo hanno lasciato solo quando la CIA lo ha minacciato di ammazzarlo per le cose che sapeva su Piazza Fontana oppure continua Pellegrino come risoluzione per una faida interna per mettere quindi a tacere chi sapeva tra le bombe del 69 e 74 oppure come risoluzione per la faida interna della P2 l'onnipresente la stessa sentenza di condanna degli esecutori emessa dalla Cassazione affermava che se essi sono stati accertati il movente occulto è oscuro così come i mandanti un'altra ipotesi fu che Bologna serviva ad avvalorare la tesi poi totalmente invalidata della bomba a bordo del 19 Italia distrutto nella strage di Ustica oltre a distrarre da Ustica stessa a sviare dalla responsabilità della strage e questa pista è nata dalle rivelazioni di Vinci Guerra il primo che parlò di un collegamento diretto con Ustica questo sarebbe stato fatto per comprire la responsabilità della Nato i cui caccia forse inglesi o francesi con colpevole disinteresse o assenso del governo italiano avrebbero lanciato un missile per tentare di colpire il jet privato del leader libico Gheddafi che si trovava in volo sul Mediterraneo centrando invece l'aereo civile italiano e forse un altro caccia libico ritrovato in Calabria secondo questa pista la bomba di Bologna doveva quindi accreditare la tesi della bomba di Ustica riproposta molte volte negli anni ad esempio da Giovanardi e da Paolo Guzzanti e molto gradita a livello teorico ai diplomatici statunitensi la CIA l'unici cipriani fu un forte sostenitore di quella che abbiamo definito la tesi atlantica scontro tra nato e patto di Varzavia che tra l'altro è abbastanza all'ordine del giorno perché questa inchiesta diventa rilevante perché probabilmente entro la fine dell'anno prossimo tutto quel che è iniziato qui lo rivedremo sulla nostra pelle letteralmente cipriani sostenitore della tesi atlantica in contrapposizione quindi a chi diceva sono stati neofascisti accusò la massoneria chiamiamola sempre deviata di seguire ordini e progetti anticomunisti dell'amministrazione nixon e di henry kissinger su cui torneremo perché loro soprattutto kissinger ritorna in altre vicende i quali tramite la mediazione di logge statunitensi scusate fu un forte quindi cipriani è sostenitore della tesi atlantica in contrapposizione alla tesi neofascista accusa la massoneria deviata di seguire ordini e progetti anticomunisti dell'amministrazione nixon e kissinger tramite la mediazione delle logge statunitensi questo è cipriani che parla per cipriani le logge americane inglesi avrebbero forzato il grande oriente d'italia questo è fondamentale ragazzi tradizionalmente democratico per cipriani le logge americane hanno forzato il goi più democratico facendone convergere gli obiettivi con quelli della gran loggia regolare d'italia d'ispirazione più conservatrice e con elementi reazionari della gran loggia d'italia degli alam da ciò da questa influenza delle logge americane sarebbe derivata l'ascesa di gelli nella p2 l'ascesa di gelli la p2 non è un'invenzione di gelli gelli fa carriera all'interno della p2 per volere americano il politico di democrazia proletaria inoltre alla commissione stragi per il decimo anno per il decimo anniversario della strage di bologna dice le testuali parole che vi prego di ricordare signor presidente da quella lapide dobbiamo togliere le parole strage fascista perché ciò è riduttivo e fa parte del depistaggio operato sulla strage di bologna diversa dalle altre stragi e che ha molto più a che fare con ustica e con i rapporti tra Italia Francia e Stati Uniti i servizi occidentali e le strutture segrete dire che sono stati fioravanti e compagni è stato un depistaggio su quella lapide bisogna scrivere strage di stato Luigi Cipriani discorso parlamentare per il decimo anniversario della strage del 2 agosto 1980 e credo sinceramente valga la pena leggere meglio cosa dice qui lo cito dalla fondazione Cipriani la governabilità e l'assoluta fedeltà atlantica del nostro paese divengono obiettivo da perseguire degli Stati Uniti e della Nato non più un problema di politica interna soltanto i terreni di intervento individuati sono quelli tradizionali i servizi segreti la Nato la massoneria dove si incontrano contemporaneamente agenti segreti grandi finanzieri banchieri e industriali sembra che abbia sentito proprio il racconto di Virgilito continua Cipriani e mi raccomando attenzione alle date nel 1974 primo delitto del mostro nel 1974 dice Cipriani la potentissima massoneria americana e l'intervento il di la l'intervento e l'intervento capeggiati dal principe siciliano Giovanni Alliata di Monte Reale, indicato da Pisciotta come uno dei mandanti della strage di Portella delle Ginestre, assieme al repubblichino ex generale dell'aviazione Giovanni Ghinazzi, entrambi inquisiti dal giudice Tamburino per la Rosa dei Venti, giudice a cui poi l'inchiesta sulla Rosa dei Venti verrà malamente sottratta, nota del redattore, mi invito ad approfondire, continua Cipriani, a condurre le trattative per conto degli Stati Uniti furono Francigliotti, caposettore della CIA e Massone, condizioni dell'accordo furono lotta a streno al comunismo, abbandono delle posizioni anticlericali, riconoscimento in Italia delle otto logge che raccoglievano dipendenti e diplomatici dell'ambasciata americana e tutte le logge presenti nelle varie basi Nato. Camperbi. Sempre nel medesimo periodo, Licio Gelli, che era già diventato il capo della P2, viene assunto, assunto a tutti gli effetti dal SID di Miceli, condannato, uomo della Nato, dice Cipriani, d'accordo, iscritto alla P2, e a conferma dell'intraccio Nato-Massoneria e del controllo esercitato sui nostri servizi segreti, vi è un'intervista rilasciata il 9 luglio 1984 dal famigerato Federico D'Amato, capo dell'Ufficio Affari Esteri Riservati, e iscritto, anche egli, alla P2, nella quale affermava Intervista Repubblica dell'84 L'avrà letta, Spataro, nel 2010? Al momento della Costituzione della Nato venne formato un ufficio di sicurezza che aveva a disposizione segreterie speciali con diramazioni in tutti i ministeri. Dice D'Amato, condannato per Bologna questo qui, io ero il capo della segreteria speciale del Ministero degli Interni ed avevo il compito di vedermi con gli agenti degli altri paesi Nato, con gli agenti segreti degli altri paesi Nato. Quel Gio, chissà se il bevi l'acqua, comunque quel Gio che diceva Vergellito. Inoltre ho fatto parte del Comitato dei Servizi di Sicurezza Europei creato nel 1968. Quindi, in risposta alle polemiche di questi giorni, prosegue Cipriani, e alle banali smentite di Spadolini e Craxi, ha detto che non solo D'Amato, ha detto che non solo la Nato controlla i nostri servizi, ma è presente con una propria organizzazione autonoma in tutti i ministeri del paese. Il ruolo della massoneria nel 1974 è stato anche fondamentale per insabbiare le inchieste dei magistrati che da Piazza Fontana all'Italicus avevano colto con le mani nel sacco bombarole fascisti, golpisti bianchi e servizi segreti, arrestando Miceli, Maletti e Labruna. Basti pensare, dice Cipriani, che le prime indagini su Mario Tutti vennero affidate a Mario Marzili, giudice istruttore di Arezzo, genero, Lili Ciagelli. La Procura Generale di Roma è passata un'ambulanza. La Procura Generale di Roma, per anni dominata da Carmelo Spagnolo, massone P2, per mezzo dei fedelissimi giudici andriottiani Fiore Vitalone, chiede e ottiene dalla Cassazione di avvocare a sé tutte le inchieste in corso. Il 30 dicembre 74, la Cassazione sottrae a Violante l'inchiesta sul golpe borghese. A tamburino, quello sulla rosa dei venti. E guardiamoli in posti simboli, anche quello di Zodiac, che vi dicono le cose in faccia. Mentre l'11 novembre aveva sottratto quelli, le inchieste sulla strage di Milano, al giudice D'Ambrosio, inviandola a Catanzaro. Si ricorda dove è Milano e dove Catanzaro. In seguito, Andriotti, Rumor e Moro, con l'imposizione del segreto di Stato, bloccheranno tutti i processi relativi. Recentemente, questi si sono conclusi con un nulla di fatto. Fine del testuale da Cipriani e su Gladio, perché senza capire queste cose è veramente inutile poi affrontare documenti o cercare di mettere insieme i pezzi, su Gladio Cipriani aveva ben riconosciuto la cronistoria. Questi sono due tra i pezzi che vi sto per leggere sono tratti da due sedute del 91 in stenografici sedute parlamentare decima legislatura. Mi chiedo come mai l'onorevole Andriotti abbia voluto negare fino al dibattito svoltosi nell'agosto scorso sui rapporti tra CIA e P2 l'esistenza in Italia di un organismo clandestino armato e composto da civili. Dell'esistenza di tale organismo voglio sottolinearlo si è parlato in Italia da molti anni. Ricordo che in quell'occasione siamo nel 91 avevo citato l'esistenza della base di Campo Marrangio in Sardegna dove si sapeva che venivano addestrati quelli che oggi chiamiamo gladiatori. Sottolineo il fatto che tutti i responsabili dell'operazione Gladio che abbiamo interrogato presso la commissione stragi ci hanno riferito di non aver mai sentito la denominazione Gladio e di aver sempre operato nell'ambito stay behind. Essi ci hanno inoltre informato di aver operato sulla base di un patto sottoscritto tra la CIA e i servizi segreti italiani negli anni 50. Mi chiedo come mai lei nel corso della sua audizione tenuta presso la commissione stragi del 3 agosto ci abbia detto che l'organizzazione Gladio fu sciolta nel 72 per poi correggersi nell'ottobre successivo affermando che invece era tuttora operante dalla lettura della documentazione che ci ha fornito emerge chiaramente non so se per responsabilità sua o se lei stesso sia stato malinformato documentato che la versione che ci è stata data dell'operazione Gladio è chiaramente una versione contraffatta non è credibile e fa acqua da tutte le parti dice Cipriani infatti sia dalle posizioni assunte dai magistrati Casson e Mastelloni sia dalle audizioni tenute presso la commissione stragi è emerso chiaramente che si tratta di una versione che non sta in piedi vorrei ricostruire partendo da alcune affermazioni contenute nel documento che lei ci ha inviato sull'operazione Gladio la vera storia di questa vicenda che non è neanche qualificabile come un patto stipulato tra la CIA e il SIFAR ma come una imposizione da parte di una potenza occupante gli Stati Uniti che hanno costituito ed organizzato nel nostro paese strutture armate clandestini preesistenti a quell'accordo che ora chiamiamo operazione Gladio ciò viene confermato dalla sua affermazione secondo la quale nel 51 da una nota del generale Musco il primo capo del SIFAR si rendeva noto che stante la presenza stante c'era già la presenza nell'Italia settentrionale di un'organizzazione clandestina autonomamente costituita dagli Stati Uniti il SIFAR aveva preso in considerazione la necessità di costituire a sua volta in risposta una struttura di questo genere e di cercare di arrivare a un coordinamento con questa struttura preesistente americana vorrei ricordare che questa storia nasce con lo sbarco degli americani in Sicilia da quel momento alcuni personaggi che facevano contemporaneamente capo a Cosa Nostra la mafia sicula americana all'OSS il corrispettivo della CIA di quegli anni e alla massoneria hanno operato nel nostro paese costituendo fin da allora una struttura armata i personaggi dell'OSS che operavano in quegli anni mi limito a citarne i nomi perché ricostruire tutta la storia sarebbe molto lungo sono i seguenti Frank Gigliotti Max Corvo Max Scamporino Charles Poletti tutti i membri sia della massoneria che della CIA e legati a Cosa Nostra oltre a Carmel Office che sarebbe l'incaricato delle operazioni speciali della CIA nel nostro paese quindi la vicenda inizia da lì e comincia attraverso la costituzione di apparati armati clandestini reclutati dalla CIA e a tale riguardo conclude Cipriani vorrei ricordare che alla stazione CIA di Roma venne rinvenuto un elenco di duemila nomi duemila nomi di personaggi di destra che venivano identificati come soggetti in grado di utilizzare armi ed esplosivi e disponibili per qualunque uso ed intervento al fine di impedire che in Italia si realizzasse un'avanzata del partito comunista o in ogni caso delle sinistre non ha dubbi questo pezzo è fondamentale è fondamentale riascoltatelo se non l'avete capito non so che farci non ha dubbi Bolognesi presidente dell'associazione delle familiari delle vittime di Bologna il quale ha sempre sostenuto che come in altre stragi analoghe chi posizionò la bomba era solo un esecutore di ignoti mandanti Paolo Bolognesi ha affermato che essi vanno cercati nell'istituzione dell'epoca come abbiamo visto e in gruppi come la P2 afferma inoltre che Licio Gelli diede 10 milioni di dollari a persone dei servizi segreti e ad appartenenti all'organizzazione Gladio prima e dopo il 2 agosto 1980 lo stesso Bolognesi ha scritto con Roberto Scardova il libro strage e mandanti sono veramente ignoti gli speratori dell'icidio del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna questo libro è del 2012 in cui è stata ipotizzata un'unica strategia anticomunista internazionale attuata in Grecia con la dittatura dei colonnelli in Italia con la strategia della tensione finché si è potuto comprendente falsi golpi di avvertimento e stragi reali e di cui Bologna fu il culmine e in America Latina con i colpi di Stato Cile dittatura argentina dell'operazione Condor comandanti originali uomini dei servizi segreti angloamericani importanti politici italiani e stranieri la strategia della tensione sarebbe partita da prima addirittura della fine della seconda guerra mondiale con la costituzione in ambito fascista della struttura parastatale denominata noto servizio o anello il cui capo durante la repubblica secondo quanto detto anche da Liciogelli sarebbe Giulia Andriotti lo stragismo avrebbe quindi da sempre usato manovalanza neofascista neonazista criminali comuni e mafiosi e avrebbe goduto dei finanziamenti esterni provenienti dall'estero sia dalla Nato sia dal petrolio della Libia di Gheddafi in affari segreti con i governi di Andreotti e con l'Ene di Eugenio Cefis oltre che da faccindieri italiani dopo nel 2015 Paolo Bolognesi presidente dell'associazione delle vittime della strage di Bologna ha ribadito la sua convenzione che l'ex capo della P2 fosse il mandante e l'organizzatore della strage nel 2015 in vista di un nuovo tentativo di golpe previsto secondo lui nel 1981 e questa cosa l'aveva già ribadita in un esposto in procura nel 2012 proprio l'anno dell'archiviazione di Spataro questo per ribadire che forse altre tesi saranno state delle tesi indimostrate o frutto di fantasie e paranoie ma quel filone ovvero che c'era un agente della CIA che confessa ad un test che sono stati effettivamente loro la CIA andava individuato e bisognava trovare il soggetto perché la tesi l'ipotesi diciamo di Virgilito non era indimostrata era già e proprio in quegli anni in atti ufficiali importanti per non parlare delle dichiarazioni che abbiamo letto di Cipriani che erano in Parlamento e dal 1990 quelle non erano state secretate come per esempio quelle di Taviani che dice che era certo che ci fosse la CIA e fino al 2021 sono rimaste sotto segreto lo vedremo nel dettaglio per quanto riguarda poi Bologna vi mostro anche qualche articolo un po' più recente di quando ero per fortuna sono stato abbonato al gruppo Gedi mi ero scaricato qualche screenshot per esempio chiuse l'inchiesa sui mandanti fu organizzata e finanziata dalla P2 di Gelli e dal prefetto D'Amato dell'ini tra gli esecutori indagato per depistaggio anche un generale del SISDE poi abbiamo questo è fatto quotidiano il caso fantastico di Ugo Sisti perché è importante parlare di Ugo Sisti perché ci spiega come si comportano i giudici purtroppo ragazzi questa è la storia non è non è una cosa che posso cambiare con la mia volontà i giudici si sono comportati così negli anni delle stragi di Ugo Sisti almeno in tutti gli altri casi sono stati hanno cercato di coprire i responsabili hanno depistato le indagini e quando hanno potuto le hanno insabbiate e io dovrei andare da loro a dire cosa Ugo Sisti chi dice così probabilmente non ne ha mai neanche sentito parlare siamo sempre sulla strage di Bologna sta forse spero di farsi prima o poi siamo a Bologna e praticamente cosa accade è che il procuratore capo il nostro Vigne l'uspatarde la situazione dopo due giorni il 4 agosto 1980 si manca per l'attentato più grave di tutti i tempi della nostra storia era a casa di quello che poi sarebbe stato condannato per essere l'esecutore materiale era a casa del più plausibile responsabile dei genitori va bene del più plausibile responsabile sentiamo cosa riesce a dire perché ha veramente del miracoloso in qualche maniera questo poliziotto d'accordo pensai ah scusate questo Sisti era con il padre di Bellini il quello condannato per essere l'esecutore e con un'altra persona con un'altra persona che non si sa chi sentite cosa riesce a dire questo poliziotto pensai che la persona con lui fosse il suo autista per questo non lo identificamo in ogni caso non verbalizzai la presenza del procuratore capo in quel momento pensammo di tenere la cosa riservata di non farne parola con alcuno alcuno e nemmeno scrissi dell'altra persona giornalista La Repubblica un'altra omissione nella vicenda che coinvolge l'ex procuratore di Bologna Ugo Sisti trovato a casa di Aldo Bellini padre di Paolo la mattina del 4 agosto 1980 omissioni che ora sono agli atti del processo all'ex di avanguardia nazionale Bellini accusato di strage alla stazione e ai mandanti dell'attentato che uccise 85 persone e ne ferì altre 200 quel giorno i poliziotti di Reggio Media restarono sorpresi quasi incapaci di reagire Sisti si qualificano sono il procuratore capo arrivarono all'albergo del padre di Bellini e ci trovano il procuratore capo il procuratore capo si qualifica fece alcune domande sulla perquisizione in corso ma cosa usate come interessante e poi andò via col padre dell'uomo accusato di aver partecipato all'attentato che bello questo dell'altro della persona mai identificata non si seppe niente a spiegarlo ieri mattina in corte d'assise è arrivato Salvatore Bocchino maresciallo di pubblica sicurezza che poche ore dopo la strage guidò la squadra che perquisì la casa e l'albergo Mucciatella di proprietà del Bellini andammo a fare la perquisizione in relazione alla strage perché sapevamo che Aldo Bellini era il padre di un estremista di destra dice Bocchino l'operazione scattò alle 7 di mattina e un'ora dopo Bocchino venne chiamato da un poliziotto che era nell'altro ero al piano di sopra quando mi chiese di scendere perché c'era un signore che si qualificava come procuratore di sotto trovò Sisti il procuratore con Aldo Bellini il padre dello stragista mi mostrò il tesserino e mi chiese cosa stavamo facendo gli dissi della perquisizione si complomiontò pure con noi bravi bravi che belle idee bravi hai visto hai visto signor Bellini che bravi i nostri ragazzi e poi andò via con Bellini i due erano in confidenza si davano del tu l'unica cosa che aggiunse fu che si era fermato di Bellini di ritorno da Milano sul suggerimento di un avvocato questa era il fresco d'altronde sono bei posti e che ci volete fare io quando avevo in una casa una strage bisogno di vedere il verde l'avvocato citato da assisti era Luigi Corradi nipote dell'ex senatore MSI Franco Bariani entrambi personaggi che ricorrono spesso nelle carte sugli anni della latitanza del leofascista Bellini incalzato dalle domande il maresciallo poi aggiunto eh c'era sì e questa persona ma no no non non l'identificammo e quando l'accusa gli chiede il perché di quella omissione visto che c'era l'ordine che ovviamente che nessuno lasciasse l'albergo senza essere controllato la risposta di Bocchino che è fondamentale per comprendere qualunque cosa si voglia tentare di comprendere in questo paese è mi scusi ma lei avrebbe identificato un'incompagnata del procuratore? durante la deposizione questo è il giornalista della Repubblica il test non è stato sempre lineare nelle sue dichiarazioni è segreto a tratti è apparso confuso contraddittorio ma su alcuni punti ha risposto in maniera precisa anche se non sempre è stato in grado di spiegare il perché di alcune sue scelte ad esempio quando i PM gli hanno chiesto la ragione per la quale nel verbale di perquisizione non si facendo assisti all'altra persona il poliziotto ha iniziato a vacillare spiegando che anche se nulla era stato scritto la circostanza era stata riferita sia alla magistratura che al questore con il quale c'era stato un confronto un confronto chiamiamolo così in quell'occasione il questore mi chiese a me ai miei uomini e al capo della Digos cosa ne pensavamo della presenza di Sisti alla Mucciatella e noi dicemmo che forse il procuratore era andato da Bellini per le indagini di Bologna ma magari a offrire garanzie per il figlio latitante in cambio di informazioni sulla strage il nome del procuratore finì in una relazione soltanto molto dopo nel marzo dell'ottantadue la magistratura chiede a Bocchino un rapporto nel quale compare il nome del magistrato e di Aldo Bellini ma anche in questo caso nessun cenno al terzo uomo un fantasma dice il giornalista avvolto nelle nebbie della notte tra il 3 e il 4 agosto 1980 finiamo di comprendere questa cosa perché è cruciale ora davanti a un comportamento così palesemente scorretto di un magistrato è ovvio no che un altro magistrato farà il suo dovere e indagherà i magistrati non sono mica cittadini al di sopra di ogni sospetto che possono fare qualunque cosa no ci sono sistemi di pesi e contrapesi per esempio se un magistrato fiorentino sbaglia parte la procura di Genova è tutto tranquillo bene disisti la persona trovata a casa del padre di quello che poi viene condannato per la strage di Bologna secondo voi chi indagherà vi lascio tre secondi per rispondere complimenti a chi la sa fu il giudice Vigna d'accordo? vedremo bene il perché anche qui leggiamo un attimo un articolo 22 pagine scritte a mano in corsivo datate 29 dicembre 1983 una sentenza in punta di diritto nella quale il giudice istruttore Carlo Parmegiani rammenta tra le altre motivazioni anche i mancati obblighi in casi privati di avviare azione penale per il procuratore della Repubblica a differenza di quanto compete agli uffici di agli ufficiali scusate di polizia giudiziaria e ai PM legalmente informati nei fatti sta lungo a supercazzola per dire che è uno dei passaggi con i quali l'ex procuratore capo di Bologna e poi direttore del DAP Ugo Sisti viene assolto assolto in primo grado dall'accusa di favoreggiamento nei confronti di Paolo Bellini il condannato come esecutore una sentenza acquisita ora dalla Corte d'Assisi di Bologna nell'ambito del nuovo processo all'ex NAR Gilberto Cavallini quello che era meno ne ricordate omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale e favoreggiamento personale questi erano i reati con cui è accusato Sisti nelle vesti di procuratore gli veniva contestata la conoscenza della condizione di latitante di Bellini Bellini già lo cercavano ed era in prigione con il nome Roberto Rassilva con la quale la primula nera viveva a Foligno è scritto anche a un corso vabbè di pilota dell'aeroclub tra le contestazioni nel ruolo di direttore del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria invece due contestazioni aveva il fatto che fosse a conoscenza e dal febbraio 1981 che Bellini fosse detenuto con le generalità brasiliane e che lo abbia aiutato nella copertura accuse cadute sono cadute le accuse davanti al giudice con una sentenza di assoluzione che generò non poche polemiche compresa la decisione della corte d'appello di richiarare il tribunale di reggio sentite sede non competente territorialmente a giudicare Sisti perché il reato non si era svolto al reggio neanche Bologna tuttavia dove Sisti era stato procuratore era considerata sede competente e così l'inchiesta finì a Firenze affidata all'allora sostituto procuratore Pierluigi Vigna il 24 aprile del 1984 un istruttore ha durato due anni terminata con un altro proscioglimento per insufficienza di prove un verdetto anche qui accolto tra le polemiche questa volta stabilito dal giudice istruttore Valerio Lombardo un altro ancora tra l'altro Vigna si sta cercando si sta cominciando a comprendere il sistema in cui ci muoviamo abbiamo visto e se volete ci facciamo un video dedicato di come prima il ritrovamento e il depistaggio clamorosamente evidente dei servizi segreti dell'81 su Bologna la gente non lo digerisce a marzo ed era gennaio a marzo vengono fuori le liste della P2 tutti i giornali non parlano d'altro ma come tutta la gente dei servizi chi ci dovrebbe proteggere chi si chi può avvalersi di come dire bonus che al cittadino concesso non sono neanche i militari sono concessi li concitiamo solo ai servizi segreti proprio perché fanno un lavoro delicatissimo e in cui devono essere assolutamente intaccabili si scopre che fanno tutti parte di una massoneria segreta più che deviata fatta per essere segreta non fatta per essere deviata fuori controllo fatta per dare una loggia a tutti i funzionari dell'area nautica della polizia della magistratura che però non risultasse tramite una procedura proprio differente all'orecchio si dice in maniera tale che non risultasse scritto infatti si trovano le liste ma non si sono mai trovate tutte c'è chi dice che si siano trovati soltanto un po' e vice come forse era lo stesso Gelli comunque chi non conosce la storia del paese non comprende l'importanza come cambia tutto il rintramamento delle liste della P2 a Villa Vanda pace lasciamolo un attimo lì per chi lo capisce e per capire in che mondo ci stiamo muovendo bisogna pensare che Pierluigi Vigna le liste della P2 le aveva trovate addirittura nel 76 e l'aveva scritto in un libro in difesa della giustizia scritto con Giorgio Sturlese Tosi per la Rezzoli Vigna indagava sul terrorismo nero e interrogò Licio Gelli mi consegnò personalmente la lista di tutti gli scritti della P2 ricorda il magistrato verificai che la legge di pubblica sicurezza risalente al fascismo in sostanza consentiva la creazione di associazioni segrete ma esigeva che a richiesta delle autorità come stava avvenendo fossero mostrate sia le liste le liste degli appartenenti e che se ci fosse stato un dipendente pubblico questo avrebbe perso il posto lo stipendio e la pensione ora a parte che erano tutti dipendenti pubblici allora questa è la cosa rilevante della P2 riuscire tramite una loggia segreta a gestire tutti i vertici e i vice o i vice dello stato se non erano dipendenti pubblici che ce ne facevamo capite come ragiona un magistrato se scopre qualcosa come le liste della P2 ma che prende e va su tutti i giornali o fa una bella inchiesta per scoprire questa cosa ma no è costituzionalmente garantito ora non ritrovo l'intervista ma a un certo punto disse che era la bocciofila per lui questa lista giudicai però che quella norma contraddiceva l'articolo 18 della Costituzione che sancisce la libertà di associazione e quindi non ne fece niente quando poi iniziò il processo per l'omicidio di Vittorio Accorzio e dovetti presentare in aula la lista della P2 riteni opportuno farla pubblicare su alcuni organi di stampa ah ora che devi andare in aula la fai pubblicare sugli organi di stampa e perché? perché te lo spiega dopo infatti poi nell'81 quelle stesse liste con nomi con pochi nomi diversi si boh dobbiamo fidarci furono ritrovate a Castelfibocchi di Lavanda solo allora mi telefonò il ministero dell'interno Virginia Rognoni dicendo so che lei era conoscenza di questi documenti perché che non li ha inviati al ministero e Vigna non pensavo che al ministero si leggesse solo Topolino perché signor ministro guardi che sono stati già pubblicati capite? 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 la bocciofila secondo Vigna si permette di dire cosa devono leggere al ministero e non Topolino Vigna per chiudere il discorso eccoci qua dal fatto perché come se non bastasse la storia di Vigna si rintreccia ancora una volta con la P2 alla fine degli anni 80 le relazioni tra il terrorismo nero e la P2 vennero evidenziate da Piero Luigi Vigna il PM individuò il canale di finanziamento dell'attività eversiva di un fascista in Toscana accidenti nei rapporti tra Licio Gelli e Cauchi e altri militanti del fronte quali Fabrizio Zani Andrea Brogi e Alessandro Danieletti Vigna li riconobbe responsabili dell'attentato alla linea ferroviaria o Firenze e Bologna della notte tra il 20 e il 21 aprile 1974 oh bravo la strage venne evitata solo perché la carica esplose qualche minuto prima del passaggio del treno espresso Milano-Napoli nonostante ciò nel dicembre 1989 la corte era si ora spero di non ripetermi perché non so dove mi sono fermato ma la storia di Vigna comunque brevemente si rintreccia di nuovo con le liste della P2 alla fine degli anni 80 tra l'altro sentite il PM di Firenze individuò il canale di finanziamento dell'attività eversiva neofascista in Toscana nei rapporti tra Gelli e Cauchi e altri militanti del fronte quali Fabrizio Zani Brogi Danieletti Vigna li riconobbe responsabili dell'attentato alla linea ferroviaria Firenze e Bologna della notte tra il 20 e il 21 aprile 74 oh finalmente un punto lo possiamo portare a casa la strage del passaggio del treno espresso Milano Napoli nonostante ciò nel dicembre 89 la corte era assise ad appello di Firenze prosciolse tutti gli imputati si comincia a comprendere un sistema un giudice trova la lista della P2 e insulta il ministero ed è tutto costituzionale un altro PM viene trovato a casa del padre del primo ricercato per la strage di Bologna e interviene il nostro magistrato quello che aveva trovato le liste della vergogna chiede di lavorarci lui per competenza territoriale assolve l'altro magistrato se ancora in un qualche modo dimostra il finanziamento a quell'organizzazione quella della lista e dopo non può più far finta di confonderle con la bocciofila o altre entità associative perfettamente costituzionali arriva la costituzione arriva la scusate la corte d'assise e proscioglie tutti ora poi noi vedremo nel dettaglio l'archiviazione di Fontana in cui compare quel Joe ma è importante capire che se il PM avesse fatto del suo meglio per arrivare alla verità sarebbe stata la prima volta in questo paese su queste tematiche poi voglio tornare un attimo al mostro ora vado un po' più a braccio ma qualcuno dovrebbe un po' chiedere scusa al Franceschetti chiamato cretinetti e altri appellativi perché c'è tutta una serie di appassionati che poi vengono rilanciati puntualmente sul mainstream che forti delle cosiddette verità giudiziarie no e vedremo poi queste verità giudiziarie in cosa consistono mele condannato per il 68 se non ricordo male e tre o quattro balordi morti poi in rapida successione in carcere condannati per tre o quattro delitti come complici di uno morto completamente innocente bella verità bella verità giudiziaria ma vogliamo questo ci serve per fare un altro ragionamento allora Franceschetti non noi che era anni che parlava della rosa rossa ora che se lo trova scritto sulla commissione antimafia sul delitto corazzin e pertanto sulla pagina wikipedia del mostro di firenze avrebbe un bel da dire ah hai visto hai visto che avevo visto bene e quant'altro così come noi altri doc più di noi più di me doc lo chiamo col suo nome da forumista perché pur ovviamente conoscendolo di persona non so se ha voglia mi corrigerà poi se sbaglio dal prossimo lo chiameremo con nome e cognome come vuole ma altrimenti su questi temi io conoscendolo so che è persona riservata lo chiamo col suo nome da forumista sono anni che si diceva quando ci dicevano e come sarebbe quale sarebbe l'anello la congiunzione tra camp derby le logge americane dei diplomatici i quali Joe dice di essere e sappiamo essere anche dall'archivizzazione di piazza fontana ci sarebbe con tutti quei personaggi che non possono essere esclusi dalla vicenda vedi Gides vedi dichiarazioni di di ribelli o lotti o quant'altri o comunque persone su cui ci sono forti sospetti perché si sono presentate dopo l'omicidio di Scopete Scopete malconce senza riuscire a spiegar molto bene il motivo e quant'altro chi ha letto amminadito il Gides sa di cosa parlo quale sarebbe mi si chiedeva sempre il legame tra Codesto Joe e i suoi servizi della Nato se vuoi Camderby con i nostri Tizio Caio Sempronio Villa e quant'altro te lo hanno spiegato fin dagli anni 90 adesso te lo hanno anche messo nella commissione d'inchiesta anti mafia il nostro stato come impareremo a capire è un protettorato degli Stati Uniti e i nostri servizi sono al comando di queste organizzazioni clandestine della CIA che impareremo a capire come operano la loro loggia di riferimento a cap derby è la benjamin franklin con cui comandano quella per esempio fiorentina che si chiama concordia in cui era narducci e probabilmente poi purtroppo sapete che la commissione d'inchiesta proprio mentre stava per sentire il gran maestro non il gran maestro del goe l'ha sentito Giuliano di Bernardi il gran maestro di allora ma Giuliano di Bernardo dice che era stato contattato da un fratello massone fiorentino che sapeva del narducci e che aveva voglia di conferire con il gran maestro di ciò che era venuto a conoscenza per cui gli chiedeva con forte insistenza riporta gli anni con precisione il maestro Giuliano di Bernardo il gran maestro Giuliano di Bernardo e chiedeva insistenza ad un incontro incontro che non è mai avvenuto per cui di Bernardo non può ricordarsi neanche il nome di questo fratello ma dice sicuramente i miei collaboratori ricordano il nome mentre la commissione si accingiva quindi a ascoltare udienza dico desti collaboratori accidenti è caduto il governo d'accordo della è caduto il governo ad agosto scorso e per cui è rimasta interrotta per cui già si ma già si mette nonostante questa precisione improvvisa della commissione di inchiesta si mette nero su bianco che c'è una loggia la loggia Benjamin Franklin di cui noi vedremo nel dettaglio grazie appunto ad alcuni mostrologi che riportarono una mia domanda a un procuratore che piace tantissimo Mignini sentiremo cosa da dire ma adesso è scritto anche in commissione mi cambia qualche cosa a Franceschetti che è forte nella sua tesi nella sua testa perché la chiama tesi infatti non ipotesi perché è convinto di aver dimostrato quel che dice sulla rosa rossa su Pierluigi Vigna e quant'altro gli cambia qualche cosa il fatto che ora venga scritto su Wikipedia prima della pista sarda con gran rosicamento dei vari cappelletti e poi non mi dimostro lì non è che li conosco tanti ma insomma c'è quello delle notti del mistero vabbè no non gli cambia niente perché se c'eri arrivato e come vedremo noi c'eravamo arrivati perché te lo dice glielo dice proprio Mignini in una domanda quando questi mostrolli gli dicono senta ma cosa ne pensa di questo e questo lui spiega che a un certo punto indagando si trova qualcuno dell'orloggia Franklin e alza le mani ci mancherebbe ci mancherebbe perché perché un giudice in questo è abbastanza onesto lo spataro nell'archiviazione di Piazza Fontana nella prefazione non è Superman ha a differenza tra l'altro di chi invece fa un'indagine storica come noi non è che può far quel che gli pare quanto gli pare studiare quanto gli pare e se viene fuori una cosa dirla quanto gli pare deve rispettare dei vincoli e soprattutto il suo territorio di indagine la giustizia finisce quando iniziano le alleanze dell'Italia capisce non si può desecretare soltanto perché compare un'indagine un'operazione che dura dal 69 e va avanti fino al 1985 in queste modalità ma queste operazioni chiamate da alcuni di guerra psicologica o psicologica l'operation che era sia un corpo militare in cui peraltro Joe era iscritto in Vietnam sia più tardi un modo per definire tutte quelle operazioni che sono sempre state fatte in realtà ben prima del Vietnam ma che vengono sempre più standardizzate per colpire una popolazione e fare ciò che ci si aspetta senza i costi anche lì si tenga presente la storia di quegli anni senza i costi di un'invasione del Vietnam che era avuto dei costi pazzeschi ed era stata un'operazione fallimentare erano dovuti tornare indietro come in Afghanistan per cui l'ipotesi è che le bombe sono servite e lo vedremo atti alla mano e la P2 era il il servizio della tramite cui la CIA avendo infiltrato a sé tutti almeno i vice quelli che sono venuti fuori ma c'è da pensare che anche i vertici ne facessero parte del nostro Stato si assicurava non solo di poter fare operazioni come Bologna ma poi i depistaggi le coperture gli insabbiamenti necessari a non attribuire le responsabilità e questo lo possiamo dire pacificamente dopo l'uscita dopo il il depistaggio del treno e la scoperta delle liste non si può andare avanti con le bombe ecco che da la loggia Franklin alla Concordia si dice di fare il mostro e gli si presenta probabilmente l'uomo l'operativo capace di fare degli assalti a questo rimando al video di Palego in altre zone si fanno operazioni di altri tipi ci siamo fino a qui non sono le sentenze o le cose messe per iscritto solo perché c'è scritto Senato della Repubblica che una cosa la fanno diventare vera o falsa questo può essere un ulteriore conforto sì ma secondo noi Izzo e ci ricordiamo bene le parole della povera Donatella Colasanti la sopravvissuta a lo sterminio del Cerceo sono ancora quelle che valgono per cui anziché dire che Virgilito non va sentito perché ha chiesto del Prosac nel 94 io fossi stato in Vigna e mi sarei chiesto perché ha fatto uscire di galera nel 2005 Izzo che va a colpire immediatamente a Campobasso sentite infatti cosa dice la Donatella con la Santi ecco qualcuno dovrà pagare per aver aperto le porte del carcere al suo assassino cosa ha pensato quando ha sentito del delitto di Campobasso ho ricevuto la notizia all'Ansa dice mi sembrava impossibile perché avevo chiesto poverina di essere informata sui suoi spostamenti giustamente questo ti sei salvata perché ha fatto finta di essere morta e invece l'ha preso sui giornali ma ora basta i responsabili dovranno essere puniti non mi arrendo fino a quando non avrò giustizia se è necessario mi rivolgerò anche al Tribunale internazionale dell'AIA con chi ce l'ha in particolare chiede il giornalista l'elenco è lungo ma in testa metto Pierluigi Vigne cosa avrebbe mai potuto è lui dice procuratore antimafia è lui che ha dato credito a Izzo come collaboratore di giustizia cosa avrebbe mai potuto rivelare quel balordo assassino della strage di piazza Fontana o dei processi su Andreotti ecco io prima che liberare Izzo o cercare una cartella medica di 18 anni prima io avrei mostrato una foto di quel Joe a Vergillito poi voi fate un po' come volete Angelo Izzo gli chiede il giornalista è il simulatore di cui si parla oggi uno in grado di far credere a tutti di essere un uomo cambiato di straordinario c'è solo l'incapacità di chi doveva tenerlo sotto controllo a Izzo è stato concesso l'incredibile dal 95 al 2003 è apparso più volte in televisione sui giornali affermando di aver commesso altri omicidi rapine sequestre di persona prima del 75 e prima del massacro del Circeo nessuno che io sappia ha indagato su quelle rivelazioni e la vicenda l'avrà seguita molto bene gli hanno permesso di sbandierare il suo losco passato davanti al pubblico dell'evisivo e sulle pagine dei quotidiani così per il gusto dello scoop ma secondo lei Angelo Izzo è un pazzo mitomane smettiamola con la storia del pazzo Izzo non è un mostro vittima della follia è qualcosa di peggio gli piace uccidere gli piacciono i soldi è uno che rifiuta di scontare la pena che vorrebbe stare in galera come in albergo un mostro non si comporta così chi uccide perché è malato vuol pagare per i suoi crimini si pente chiede addirittura di essere giustiziato no Izzo è arrogante fa male agli altri e non chiede mai scusa è un assassino e basta Angelo Izzo odiava le donne odiava gli esseri umani ce l'aveva con tutti si entusiasmava all'idea di sequestri e rapine era un balordo viziato che voleva diventare qualcuno gli piaceva esercitare un potere assoluto su un'altra persona ma senza i suoi amici non ce l'avrebbe fatta ha sempre bisogno di complici di qualcuno che li faccia da sponda lui e come ha fatto a salvarsi? va bene non entriamo nelle cose pruriginose questo era per ricordare a tutti perché in questo paese dalla memoria dai pesci rossi bisogna ricordarlo chi è Izzo e che non è la prima volta che torna come lui come testimone testimone evidentemente attendibile andiamoci piano usiamo sempre la logica usiamo sempre la mente perché sono altre le cose che ci fanno capire se una pista andava effettivamente battuta e ci fanno accettare quelle conseguenze che diceva la dottoressa Judy Good in apertura di scoprire che lo Stato ebbene sì ha coperto depistato e insabbiato le nostre stragi non solo riusciremo a rendere un po' di giustizia a tutte quelle vittime ma soprattutto della cosa più importante riusciremo a difenderci dalle prossime azioni che potrebbero vedremo se ve ne sono state essere messe in atto per attaccare o tramite l'uso di certe informazioni cambiare un audience che si vuole colpire piuttosto che invadere militarmente per oggi è tutto alla prossima grazie a tutti